2 gennaio Signore, Tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Salmo 91 Alla presenza di Dio Alla fine del giorno è bello rientrare in un luogo familiare. Possiamo provare lo stesso sentimento trovandoci alla presenza di Dio. Con il tempo puoi imparare ad accostarti a Lui per richiedere forza, protezione e guida. Il Signore desidera che ti senta a tuo agio quando sei alla Sua presenza e che lo senta costantemente a te vicino. Spesso pensiamo a Dio più come a un'entità spirituale di cui parlare, piuttosto che a una dimora cui tendere. Egli è colui in cui viviamo, ci muoviamo e siamo. Atti 17, 28 Quando Dio condusse i figli di Israele nel deserto, non si presentava soltanto una volta al giorno per poi scomparire nel nulla. Al contrario, la colonna di fuoco era presente tutta la notte e la nuvola di fumo durante il giorno. Il Signore non ci lascia mai. Gesù l'ha promesso. Io sono con voi tutti i giorni. Matteo 28, 20 Il salmista così si esprime. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Salmo 27, 4 È sufficiente una semplice tua decisione e ti troverai all'istante alla presenza del Signore. Grazie a tutti i giorni.